in attesa del grande giorno un po di bella vita anche per pasqualina e giuseppe che insieme al loro piccolo giacomo si concedono una rigenerante giornata in piscina e l'acqua è una cosa straordinaria perché comunque quando fa caldo ci abbiamo la diciamo ci mettiamo l'acqua addosso perché comunque l'acqua sulle labbra due dolcissime ma giuseppe si sa mangiare i panini sono pronti quando andiamo in piscina ci portiamo panini con salame bibite io voglio stare un po più leggeri abbracciato con te abbronzattissima vieni qua vieni giaco io il mare l'odio mi dà fastidio proprio la sabbia sui piedi anche a pasqualina infatti abbiamo molte cose in comune e si sa come sempre succede chi si assomiglia si e io giuseppe ci siamo conosciuti su facebook io gli ho mandato una richiesta dalla richiesta e l'altra abbiamo iniziato a messaggiare dopo messaggiato dopo due giorni ci siamo visti che posso vederti dal vivo di foto quando l'ho visto dal vivo ho pensato che era l'amore della mia vita mi è colpito lo sguardo perché è bellissimo è stato come un amore a prima vista diciamo ci siamo colpiti entrambe prima ci siamo diciamo baciato qua e di là come si salutano e poi abbiamo parlato e poi ci siamo scambiato dei baci dentro tutti mi sentivo un amore che aspettavo da tempo dopo nove mesi di finanziamento è arrivato il piccolo giacomo abbiamo creato la famiglia abbiamo creato il nostro gioiello giacomo vieni a pappare giacomo giacomo esci dall'acqua appoggiate a me poi ci vorrebbe la marcia di un zion stasera ci siamo voluti regalare una cena speciale buonasera 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 ben arrivati prego mamma mia nella terrazza di Villa Olga guardate che bellissima Villa Olga è una residenza bellissima faccia proprio su Marina Piccolo e sui Faraglioni è un paradiso terrestre vi volete accomodare? ci ha accolto Esther che è la proprietaria della villa e ci ha fatto una bellissima sorpresa ma buonasera ecco la cosa buonasera buonasera a tutti e lei proprio lei chi poteva essere se non io ad accogliere i nostri VIP grazie gentilissima ma tu sei proprio veramente Lina è la chef delle star cucina per tutti i VIP sull'isola di Capri qui abbiamo polpettine al limone arancini frittatine di pasta e buon appetito vedo che avete già la collina è vero? è vero proprio quello che piace ai ragazzi grazie siamo a posto Imma mangiamo buonissimo sicuro ti sei assicurata la cima allora buon appetito intanto a Mondragone sotto casa della sposa c'è un insolito fermento Pasqualina 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 che sorpresa per Pasqualina il suo Giuseppe le ha organizzato una serenata favolosa intonata da un interprete d'eccezione grande amore la drag queen Lady Sasha dimmi che mai che non mi lascerà mai dimmi chi sei respiro dei giorni miei d'amore sono uscita fuori e ho visto questa bellissima sorpresa e io magari mi aspettavo il cantante invece è venuto la stessa cosa Lady Sasha e pure ci siamo divertiti quanto ti senti americano tu? tanto ah! l'ha giù trovato veri cani mia ah! te ne capi nel riceric l'occhio è brillante io solo in faccia ogni figliola s'appiccia si oere e passa com'è bello far l'amore col pisello in su ricordati e farlo sempre con chi hai voglia tu e se ti lascia lo stai vestito trovi un altro più bello che problemi non ha com'è bello far l'amore ho fatto una cosa un po' più particolare per la scusa per sorprendere un po' più divertimento più casino e se ti lascia lo stai vestito trovi un altro pisello che problemi non ha